Vedete come i nemici della Chiesa, i nemici soprattutto dei cattolici, sono sempre più incattiviti anche su questo canale che pure ha poche visualizzazioni, c'è sempre più cattiveria nei confronti delle mie affermazioni che sono, ripeto, come sempre ripeto semplicemente la voce della Chiesa Cattolica, della Chiesa Cattolica e del suo insegnamento che al netto di tutti i modernisti che commentano qui su questo canale rimane e deve rimanere immutato e anche qualora dovessimo trovare un Papa eretico, ricordo ce ne sono già stati nella storia della Chiesa, noi sapremo, avremo studiato quello che è il comando, il consiglio che vi ho sempre dato per rimanere fedeli alla Chiesa Cattolica e attraverso il suo magistero ottenere poi da Dio stesso la salvezza rispettando i comandamenti e la volontà di Dio. Ebbene oggi volevo parlare però di una preghiera molto importante nella Chiesa, probabilmente molti di voi la conoscono già che però va sempre ricordata anche perché è la Madonna stessa a chiedercelo, che piaccia o no appunto ai nemici della Chiesa e anche di Maria Verti, perché quando voi trovate questi personaggi appunto apparentemente progressisti di una Chiesa nuova in realtà hanno sempre in odio Maria Santissima, hanno sempre in odio tutte le devozioni a lei rivolte, chissà come mai, il motivo lo sappiamo ma non lo voglio ripetere perché altrimenti poi vengo accusato di essere brutto e cattivo. E allora ecco qua il rosario, ricordo che questa è un'arma, adesso qualcuno potrebbe dire questo vuole incitare la violenza, i soliti cristiani che fanno violenza, no, è un'arma come disse Padre Pio da Pietrelcina contro ogni tentazione, è un'arma contro il male, è un'arma da non usare ovviamente in senso superstizioso, quindi semplicemente da portare al collo per dire come si portano, come alcuni portano gli amuleti, no, è un'arma da pregare, con la quale pregare, questo è il Santo Rosario ed è, adesso vedremo come è costituito, come è formato. La storia del Santo Rosario è lunga, risale al Medioevo, quando o quanto pare i monaci cistercensi misero diciamo in qualche modo già una prima struttura, una prima struttura, una prima forma di questa preghiera, ma poi soltanto Pio V, il grande Santo Pio V, colui che collaborò anche alla stesura per esempio del Catechismo Romano, che riportava ovviamente tutte le dottrine del Concilio di Trento, ecco dicevo Pio V venne a stabilire definitivamente la struttura a grandi linee del Rosario, perché il Rosario è una preghiera popolare proprio perché ha sì una sua struttura ma anche una certa flessibilità, è una preghiera molto semplice come andremo a vedere che la Madonna però ci ha chiesto di pregare, soprattutto in tante apparizioni, come per esempio quella di Lourdes, dove lei stessa appare e recita, come ricorderete, il Rosario insieme a Bernadette Subiru, ma anche in altre apparizioni riconosciute dalla Chiesa, come per esempio Fatima e via dicendo. Sono tutte notizie che comunque potete trovare anche online, ma che io sono tenuto a ricordare. E allora andiamo a vedere che cos'è quindi il nostro Santo Rosario. Come vedete il Santo Rosario inizia con una croce. Qui è appesa una croce perché ci ricorda che all'inizio, dopo il segno della croce, diremo semplicemente O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Ora questa è la preghiera che ci è stata insegnata. Io amo modificarla, ma è una mia decisione in O Dio vieni a salvarci, Signore vieni presto in nostro aiuto, perché ritengo che il Rosario debba essere, ma questo la Chiesa l'ha sempre ritenuto, non una preghiera soltanto personale, ma una preghiera di tutta la Chiesa. Quindi il momento in cui io prego per tutta la Chiesa, per la conversione dei peccatori e per la distruzione dell'eresia e via dicendo, naturalmente prego insieme a tutta la Chiesa. Chi in questo momento non sta pregando con me comunque prega, questo va nel tesoro di grazia della Chiesa. Ricordo soprattutto a scanso di equivoci e per appunto debellare, tanto è impossibile però, debellare le eresie moderniste che San Paolo stesso ci chiede nella prima lettera a Tessalonicesi di pregare incessantemente. Ora questo non significa pregare tutto il giorno, ma diciamo svolgere una vita di preghiera, quindi una vita comunque legata alla preghiera, insomma all'adorazione e via dicendo. E dunque il rosario è un buon modo, adesso vedremo come per passare una giornata veramente legata alla preghiera. E allora dicevo si parte con questa croce, dopo la preghiera appunto il segno della croce e l'espressione appunto Dio viene a salvarci, Signore viene impresso in nostro aiuto, solitamente si dice il gloria al Padre ed è praticamente vedete anche il primo di questi grani, il primo di questi grani con il gloria al Padre. Successivamente vedete che abbiamo altri tre grani prima dell'inizio della vera e propria corona. Questi tre grani solitamente la tradizione li dà a tre preghiera, a tre Ave Maria. Ave Maria tutti la conosciamo naturalmente, ad alcune rivelazioni private, ad alcune sante è stato detto, non ricordo quali sante però è stato detto di rivolgere questi tre preghieri alle tre persone della Santissima Trinità, quindi tre Ave Maria che sarebbe preferibile appunto secondo queste rivelazioni private rivolgere come preghiera direttamente alla Santissima Trinità e a queste sarebbero legate anche delle grazie particolari per le persone che rivolgono questa preghiera. Poi inizia la vera e propria preghiera del rosario. C'è da dire innanzitutto una cosa, che tendenzialmente il vero e proprio rosario non è soltanto questo, ma è tre volte questo, nel senso che chi dice il rosario intero, l'intera giornata, in realtà dice non 50 Ave Maria, anzi 50 più 3 è 53 Ave Maria, ma 53 per 3 Ave Maria, perché il vero rosario è costituito da tre corone. Quindi chi dice il rosario per intero in una giornata dice tre volte la corona del rosario, quindi quello che noi chiamiamo rosario in realtà è la terza parte del rosario, che però è già bella cosa riuscire a dire in una giornata, trovare il tempo, beh il tempo si trova se si vuole, ma non trovare chiaramente l'ispirazione di questa grandissima e importantissima preghiera che ripeto San Più da Petri Alcina diceva essere un'arma infallibile insieme ovviamente alla volontà e alla grazia di Dio contro la tentazione. E allora iniziamo un po' a vedere quindi come funziona. Innanzitutto se noi vogliamo dire la terza parte del rosario, cominciare con la terza parte del rosario, dobbiamo riferirci alla giornata. Allora il rosario è costituito da 15 misteri, che cosa vuol dire misteri? Sono delle contemplazioni che noi facciamo della vita di Gesù Cristo nostro Signore. I misteri sono divisi in gruppi da cinque. Ci sono i misteri gaudiosi, punto 5, i misteri gloriosi e i misteri dolorosi. A seconda della giornata, della settimana, avremo il lunedì, per esempio siamo tenuti a dire i misteri gaudiosi. Il lunedì e il sabato. Il lunedì e il sabato, se diciamo solo la terza parte del rosario, diciamo soltanto i misteri gaudiosi. Quali sono i misteri gaudiosi? Misteri legati alla nascita, all'annunciazione, adesso li elencherò tutti e cinque e ai primi anni di vita, diciamo, per così dire, di Gesù Cristo nostro Signore, la sua vocazione e via dicendo. Quindi i misteri gaudiosi, adesso vedremo poi come si inseriscono questi misteri. Quali sono i misteri gaudiosi? Li potete trovare anche su internet, sono l'annunciazione dell'arcangelo Gabriele a Maria Santissima, la visita di Maria Santissima alla Santa Elisabetta, la nascita di Gesù Cristo nostro Signore, chiaramente sappiamo come è avvenuta, la presentazione di Gesù Cristo nostro Signore al Tempio, famosa scena evangelica, unita anche alla profezia che Simeone fa Maria Santissima della famosa spada del dolore, il fatto che naturalmente unita alla nascita di Cristo vi è anche un dolore estremo che avrà Maria Santissima di vedere suo figlio morto sulla croce, prima ancora umiliato di fatto da tutta l'umanità. E poi, quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù Cristo al Tempio, la famosa scena, come sapete, ricorderete, nella quale Maria Santissima e San Giuseppe, dopo tre giorni di ricerca, ritrovano il figlio che credevano perduto, appunto, a parlare con i dottori al Tempio. Ebbene, questi sono i cinque misteri gaudiosi, quindi da pregare il lunedì e il sabato, sabato giorno da sempre dedicato a Maria Santissima. Abbiamo poi invece i misteri dolorosi, quelli legati, immaginerete, alla passione di Gesù Cristo nostro Signore, sono anche loro cinque. L'agonia di Gesù Cristo al Gizemani, con agonia a cui si intende il grande, la grande sofferenza spirituale che precedette la sofferenza fisica di Cristo, quindi la coscienza di sapere di dover bere l'amaro calice della passione, perché egli, come sappiamo, ha sofferto, come tutti noi, anzi più di ognuno di noi. E poi, e poi, chiaramente, gli altri misteri dolorosi, la fragellazione di Gesù Cristo alla colonna, l'incoronazione di spine, la salita al calvario e, infine, la morte di croce. Poi abbiamo, invece, i misteri gloriosi. I misteri gloriosi sono quelli legati, ovviamente, alla resurrezione di Gesù Cristo nostro Signore e anche alla salita alla sua ascensione. E poi, gli ultimi due, adesso li elencherò alla assunzione in cielo di Maria Santissima e la sua incoronazione. Allora, chiaramente, adesso li elenco, sono la resurrezione di Gesù Cristo nostro Signore, la sua ascensione, è il secondo mistero glorioso, la sua, la discesa dello Spirito sul Cenacolo, quindi già l'evento della Pentecoste, poi l'assunzione di Maria Santissima e, da ultima, l'incoronazione in cielo di Maria Santissima. Quindi questi sono i quindici misteri che conosciamo. A ciò ha aggiunto Giovanni Paolo II, con il Rosario Virginis Marie, con questa esortazione, anzi con questa enciclica, se non erro, di Giovanni Paolo II, altri quattro misteri che non siamo, diciamo, obbligati, tra virgolette, a dire per il Rosario completo, ma che vanno addirittura a creare venti misteri. Sono i famosi misteri della luce, in cui Giovanni Paolo II ha voluto estendere, per chi è davvero così santo, appunto ha quattro altri misteri. E sono il primo, il battesimo di Gesù Cristo al fiume Giordano, secondo le nozze di Cana, quindi vedete come Giovanni Paolo II va a prendere venti che non erano ancora presenti nel Rosario tradizionale, l'annuncio del regno, terzo mistero della luce, quarto mistero la trasfigurazione, evento importantissimo, e poi naturalmente la Santissima Eucaristia, quindi il compimento della vita di Cristo con la messa, naturalmente, e poi la sua morte di croce. Andiamo a vedere quindi come poi si inseriscono questi misteri. Ecco, dicevo, lunedì e sabato preghiamo, pregheremo quindi i misteri gaudiosi, e ogni qualvolta lo vogliamo, se preghiamo solo la terza parte del Rosario, il martedì e il venerdì, ovviamente il venerdì preghiamo i misteri dolorosi, quelli legati appunto alla morte di croce di Cristo, il mercoledì e la domenica preghiamo invece i misteri gloriosi. Il giovedì l'ho lasciato da parte perché il giovedì è pensato per i misteri della luce, appunto quelli che Giovanni Paolo II ha aggiunto, ha aggiunto nel 2002. Quindi, ripeto, chi dice la terza parte del Rosario si limita a questi cinque misteri. Chi invece dice tutto il Rosario li dice tutti i giorni, tutti i quindici. Quindi i misteri del Gaudio, i misteri gloriosi e i misteri dolorosi. A ciò può aggiungere, se è veramente così santo, se ce la fa, se si fa aiutare da Dio anche in questo senso, i misteri della luce. I misteri della luce, quelli appunto che portano a venti l'intero Rosario. Quindi o quindici o venti misteri. Adesso andiamo a vedere però come questi misteri si inseriscono all'interno del Rosario. Dicevo che cominciamo con il credo, seguiamo con il gloria al Padre, seguiamo ancora con tre Ave Maria. Io successivamente inserisco ancora, ma penso lo facciano ormai tutti, anche tutti quanti, un altro gloria al Padre. E poi iniziano, come vedete, le prime dieci, prime dieci grani. Quindi il primo mistero. Cosa vuol dire contemplare il mistero? Vuol dire semplicemente ricordare, nella propria mente, o quando si fa Rosario in comunità, anche magari leggere un piccolo estratto evangelico che ricorda questa scena, ricordare il primo mistero. Proprio poniamo il primo mistero gaudioso. Quindi poniamo appunto l'annuncio dell'Angela Maria, che significa concentrarla propriamente, quindi fare, dire queste dieci Ave Maria ponendo la mente su questo evento importantissimo. Quindi affinché esso possa migliorare la nostra vita di grazia, anche no? La nostra vita di preghiera, vi dicevo. E da lì diciamo poi il Padre nostro. Quindi prima di iniziare il mistero, quindi noi diciamo gloria al Padre, poi contempliamo il mistero, diciamo il Padre nostro, e successivamente iniziamo a dire le dieci Ave Maria. Probabilmente qualcuno anticipa già un'altra preghiera che io dirò, cioè non c'è una struttura fissa, fississima. L'importante è dire le cinquanta Ave Maria, cinquanta più tre, anzi le cinquantatré Ave Maria, e dire i cinque misteri. Poi se noi diciamo prima il Padre nostro, o lo diciamo alla fine delle dieci Ave Maria, non vedo una grande differenza. L'importante è dire alla fine di queste dieci Ave Maria, poi la famosa preghiera che l'angelo del Portogallo ha insegnato ai tre pastorelli, Francisco, Giacinta e Lucia, cioè la famosa preghiera. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, soprattutto le più bisognose, della tua misericordia. Questa preghiera esiste soltanto, tra virgolette, da cento anni a questa parte, perché è stata dettata letteralmente dall'angelo del Portogallo, un anno prima delle famose apparizioni di Fatima, ai tre pastorelli, che ormai sono tutti e tre diventati santi della Chiesa di Gesù Cristo, nostro Signore, Giacinta, Francisco e Lucia. Quindi, dicevo, le prime dieci Ave Maria, l'elenco, se non ve lo ricordate, lo ritrovare anche su internet, dei misteri gaudiosi, per dire, e poi abbiamo appunto la conclusione, con Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. E con questo si conclude la prima decina. E di seguito andiamo, quindi ancora con un'altra gloria al Padre, con la contemplazione del secondo mistero, il Padre Nostro, la recita delle dieci Ave Maria, ancora una volta gloria al Padre, prima o dopo, insomma, l'importante è che si faccia legato appunto alle dieci Ave Maria, e poi ancora il Gesù mio, perdona le nostre colpe. Si possono aggiungere poi liberamente anche altre preghiere, via chi dice per esempio, si rivolge anche a San Giuseppe, no? Sante Iosef ora pronolis, all'interno delle dieci Ave Maria, chi aggiunge altre cose, chi aggiunge per esempio la preghiera sotto un presidium, anche in ogni decina. Vedete, il Rosario ha una struttura di base alla quale, ripeto, si possono aggiungere poi altre preghiere. Giunti alla fine delle nostre cinque decine, quindi alla fine della corona, solitamente aggiungiamo anche il Salve Regina, che la Chiesa prega solitamente in piedi, quindi anche se si è da sole lo si prega solitamente in piedi. E poi, beh, un gloria al Padre, possiamo dirlo sempre alla fine, Padre Nostro, un Salve Regina, per chi vuole può aggiungere anche le famose litanie lauretane, che si trovano facilmente anche su internet, sono le invocazioni in cui ricordiamo di fatto gli attributi che la Chiesa ha conferito, la tradizione, il Magistero della Chiesa, Maria Santissima. Litanie lauretane, io personalmente ho iniziato da cinque anni, dico il Rosario, e ho iniziato in un momento particolare della mia vita, che adesso non ho voglia qui, insomma, e non ho la necessità di raccontare, a dire prima le litanie lauretane. Quindi la Madonna Maria Santissima mi ha portato, oltre che alla fede, anche a Rosario, passando dalle litanie lauretane. Quindi evidentemente mi sento di dire, poi ognuno può accettare o no questa mia riflessione, che le litanie lauretane siano fondamentali e da dirsi ogni giorno. Litanie appunto legate a Loreto, sapete insomma al famoso Santuario di Loreto e a ciò che significa Santuario di Loreto per chi è cattolico, ovviamente per chi è di altre religioni o di eresie varie, no. Quindi Maria Santissima, naturalmente sappiamo, è anche la debellatrice di ogni eresia, e dunque chi è veramente mariano, con pacatezza, come cerco di fare io, non sempre purtroppo, deve lottare contro le eresie. Eccolo qua, dunque abbiamo detto il rosario, quindi abbiamo detto lunedì e sabato, misteri gaudiosi, quindi i cinque misteri del rosario. Ripeto, non si tratta di stare così, poi ognuno può fare quello che vuole, ma insomma di meditare così tanto tempo ogni mistero, ma semplicemente ricordare, prima dell'inizio di questa decina, che cosa stiamo pregando. Quindi il pensiero che stiamo rivolgendo a Dio e Maria Santissima legato a questa scena. Ora qualcuno, no, ci sono le solite obiezioni, ma poi questo rosario è noioso, in questo rosario si inseriscono all'interno i pensieri personali, perché il rosario è lungo, a parte che non è lungo, perché insomma dire la terza parte del rosario ci vogliono 20 minuti al massimo, insomma, o 25 minuti proprio per quelli che lo fanno in maniera più contemplata, quindi è più lenta. Ma, ripeto, non cadete nell'errore protestante, non cadete nelle resie che ormai vanno spopoleggiando, come sapete, nella Chiesa di Cristo, non è vero che pregare tanto significa pregare male, certo bisogna pregare bene, però, però, attenzione, non cadete in chi dice no, basta, sì, è chiaro, bisogna rivolgersi anche a Dio in altre forme, insomma, non è necessario rivolgersi con un Ave Maria, a Maria Santissima, si può dire anche Maria aiuta o parlare con lei, o parlare con Gesù Cristo in forme che non sono le preghiere istituzionali della Chiesa, però questo non significa cancellare l'usario, scusate, ma se Maria Santissima si sgola in tante apparizioni approvate dalla Chiesa, sulle quali voi non potete dire nulla perché sono approvate dalla Chiesa, quindi non mettete le mani sulle apparizioni perché vi ritornerà a mal partito, non si può non credere alle apparizioni in quanto che sono riconosciute dalla Chiesa, anche se sono rivelazioni private, ecco, in tutte queste apparizioni, l'Urd, Fatima e via dicendo, anche la stessa Meggiugoria, se poi sarà riconosciuto ufficialmente, ma visto che ci sono molti, insomma, sostenitori, anche lì Maria Santissima chiede la preghiera del Rosario. E quindi, e quindi ci sarà un motivo, quindi preghiera, ripeto, che non è un amuleto, ma che è fondamentale, quindi non cadete in chi dice che non bisogna pregare tanto, che se chi prega tanto è pagano, queste sono tutte stupidate, luterane, stupidate che tanti modernisti all'interno della Chiesa, anche magari persone che qui scrivono su questo canale, ovviamente verranno subito ad inserire, perché ovviamente non si perdono in animo per ascoltare e fare, come si dice, i megafoni del loro padrone, che sappiamo chi è. E quindi ecco qua, lo dice San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, pregate incessantemente, siate sempre lieti, ricordate prima Tessalonicesi di capitolo 5, se non erro, e quindi attraverso ovviamente non esisteva ancora la preghiera del Rosario istituzionalizzata, ma se fosse esistita sicuramente San Paolo ci avrebbe indicato questo. Quindi se ci sono poi delle domande da parte vostra potete scrivere volentieri qui sotto, mi scuso se forse non sono stato così brillante, non lo sono forse mai, però diciamo non sono particolarmente in forma, insomma come salute, però era importante parlare appunto del Santissimo Rosario. Ripeto, è cosa santa, come dice un grande sacerdote Don Leonardo Pompei che segue costantemente, è cosa santa e che apre alla santità sicuramente dire l'intera parte, l'intero Rosario, quindi appunto per chi vuole prendersi questo impegno, quindi le tre corone o addirittura quattro, quindi arrivare al completamento che ha proposto Giovanni Paolo II nel Rosario Virginis Mariae. Però già dire la terza parte del Rosario è cominciare gradatamente come Maria Santissima vuole, sempre portarci alla fede con delicatezza, con la sua estrema delicatezza di madre, di madre premurosa appunto per i suoi figli. Ecco qua dunque un invito che faccio anche perché sono tenuto a farlo alla preghiera quindi del Rosario, una preghiera che non deve essere vista appunto come ripetizione stantiaca, io devo fare perché se è una cosa che devo fare non la vedo come qualcosa che può andare avanti nel tempo, quindi se la vedo come un dovere. Facciamoci aiutare da Maria Santissima. C'è una rivelazione all'interno di un esorcismo, lo so che magari qui adesso qualcuno scuoterà la testa, dirà oddio a che punto siamo arrivati, invece gli esorcismi sono preghiera, sono preghiera, insomma sono atto della chiesa in cui appunto viene dichiarato da un demone che chi io ci credo a questa cosa, voi siete liberi di non crederci, chi tutti i giorni va alla messa e si comunica e quindi a ingraziare Dio e dice l'intero Rosario ecco su queste persone il diavolo, il male che sappiamo agisce per colpa dei nostri peccati dentro nella chiesa non può fare un granché. Quindi questo demone avrebbe dichiarato che per chi dice l'intero Rosario, quindi i quindici misteri, e va tutti i giorni alla messa e quindi a ingraziare Dio il Rosario, i demoni non agiscono su di lui in maniera sostanziale, non procurano mali, diciamo, quei tanti mali che abbiamo nella nostra vita e che comunque infieriscono anche sulla chiesa. Questa è la dottrina di fede, lo sapete, spero lo sappiate, che i beni, le opere buone che noi compiamo agiscono in positivo nel tesoro di grazia della chiesa, insieme alla morte di Cristo e sua resurrezione, ma agiscono purtroppo anche i mali, è in forma opposta, lottando contro i beni che noi inseriamo nel tesoro di grazia della chiesa. Quindi stiamo attenti a questa cosa e preghiamo sempre il Santo Rosario.